Ciao a tutti in questo nuovo video questo video abbiamo realizzato insieme io e il mio ragazzo in questo caso la modella da virgolette sarei io ora vedrete una serie di suoni e di azioni che compie il mio ragazzo come spazzola ai miei capelli poi vedrete che mi fa dei massaggi in diverse modalità spero che questo video vi fosse piacere e vi fosse in qualche modo rilassare io vi auguro una buona visione e per tutta la durata del video non parlerò più per farvi rilassare buona visione 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 buon visione buona 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 visione